Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani ad una nuova puntata di Top Up of the Week targata iPhoneItalia.com Come al solito andiamo a vedere le migliori applicazioni scelte per questa settimana e poi i migliori aggiornamenti e i due giochi che vi consiglio come al solito. Iniziamo subito! Ben ritrovati ragazzi, eccoci qui con una nuova puntata di Top Up of the Week. Allora iniziamo dalla prima applicazione che vi presento questa settimana, parliamo di Airmail. Airmail è un client di posta molto popolare su Mac che adesso è disponibile anche su iPhone, un client davvero molto molto interessante, pieno di funzionalità, comode, di tool e di integrazione con servizi di terze parti. Allora avremo a disposizione tutti gli strumenti classici per la gestione di una o molte più caselle postali, avremo la possibilità di gestire al meglio tutti i nostri account mail, di poter gestire le firme, di poter gestire l'organizzazione, le cartelle, i filtri, la ricerca, insomma tutte le operazioni. Le opzioni che ci potranno servire avremo la possibilità di sincronizzare il tutto con iCloud, con l'applicazione per Mac, avremo la possibilità di gestire al meglio tutta l'interfaccia anche da Apple Watch perché ci sono delle opzioni comodissime al polso se abbiamo un Apple Watch, ci sono delle scorciatoie per il 3D Touch per i nuovi iPhone. Si parla di un'applicazione comunque con una grafica e con un'interfaccia molto molto semplice, intuitiva e comoda che sicuramente può essere un'ottima alternativa a molte altre applicazioni di mail, soprattutto a quella standard di iOS che è quella fatta da Apple. Applicazione quindi molto consigliata, ovviamente ha un costo, non è gratuita su App Store però può essere forse l'applicazione giusta per tutti gli utenti perché può essere comodissima per chi ha bisogno di una cosa molto semplice per gli inizi, quindi per avere a disposizione un'interfaccia molto comoda, sia per chi vuole semplificare magari tantissima mole di lavoro, tantissime mail e tanti account, quindi davvero consigliata. Prossima applicazione, andiamo a vedere un'applicazione davvero semplicissima, è un tool praticamente, fa solo una cosa e ci permette di andare a creare degli sfondi per il nostro dispositivo a partire da qualsiasi immagine, soprattutto dalle immagini che non sono venute in granché, quindi dalle immagini un po' sfocate, dalle immagini che non ci piacciono troppo, che non sono a risoluzione da iPhone, noi potremo comunque renderle molto più godibili, molto più fruibili sul dispositivo perché utilizziamo un fattore di sfocatura, sfochiamo l'immagine e utilizziamo l'immagine come un bel background, tra virgolette, blurred per il nostro dispositivo, per le nostre icone, magari da utilizzare forse solo nella schermata home, non nella schermata di blocco perché comunque parliamo di una foto sfocata, però può essere davvero un'ottima cosa, soprattutto se abbiamo foto molto colorate. Passiamo alla prossima applicazione, applicazione molto utile per chi tiene alla salute, per chi vuole avere sempre a disposizione un prontuario di centrifugati ottimi per determinate esigenze, quindi magari un centrifugato energizzante oppure per potersi depurare, insomma varie opzioni a disposizione con tutte le informazioni, i valori nutrizionali, le ricette, i frutti e le verdure che servono, tutto insomma il procedimento spiegato, la possibilità di poter raggiungere i preferiti, la possibilità di poter andare a condividere le ricette con chi vorremo, avremo a disposizione quindi tantissimi strumenti comodi, un'interfaccia davvero molto pulita e bella con questa applicazione, tutto quello che ci servirà per avere a disposizione un prontuario sempre utile, quindi non ci saranno più scuse per evitare di farsi un centrifugato nutritivo e salutare. Passiamo alla prossima applicazione, l'ultima che vi presento per questa puntata, perché poi andiamo a vedere gli aggiornamenti e i giochi, parliamo di un'applicazione molto interessante per chi vuole tenere sotto controllo le proprie idee, però non in forma lineare come in tutte le applicazioni di annotazione, bensì tra virgolette in forma visuale, quindi avremo la possibilità con questa applicazione di creare un cerchio di idee da associare ad altri cerchi, quasi come un'applicazione di mind mapping però non proprio in quello stile, avremo la possibilità qui di inserire tutte le nostre idee e vari link contrassegnati da altri cerchi al cerchio principale che ovviamente è il nostro progetto, quindi potremo aggiungere una nota, un link a una pagina web, un'applicazione o un contenuto di uno store, insomma avremo a disposizione tantissime opzioni, aggiungere un'immagine, poter aggiungere un qualsiasi tipo di contenuto tra quelli disponibili e poter andare quindi a creare dei taccuini tra virgolette visuali e interattivi per le nostre idee, le nostre note. Sicuramente è un metodo molto più creativo e più divertente di andare a gestire le note e le idee. Va bene, quindi andiamo a vedere le applicazioni che si sono aggiornate per questa settimana. Si aggiornano One Password, Just Eat, TripAdvisor, Twitter, MusicSmash, Dropbox, Skype e Messenger. Passiamo quindi adesso ai due giochi di cui volevo parlarvi in questa puntata. Allora il primo è molto interessante, parla di un mondo post-apocalittico, è un secondo capitolo di un gioco davvero molto famoso e si chiama The Silent Age e il secondo si chiama Shadow Blade Reload ed è un platformer action con tanti elementi relativi al mondo ninja e samurai. Quindi ci saranno comunque tante missioni interessanti e divertenti da scoprire. Ultima applicazione, l'ultimo contenuto bonus prima di chiudere, lo metto alla fine perché non so se considerarlo un'applicazione o un gioco fondamentalmente. Parliamo di un'applicazione musicale barra gioco musicale che ci permetterà di interagire con varie forme e vari tipi di musica tra virgolette interattiva per creare determinate creazioni. Avremo a disposizione dei brani free all'interno dell'app come anche dei brani da poter acquistare separatamente e la possibilità di suonarli in modo personale gestendo i tocchi e le gestures all'interno dell'interfaccia. Va bene ragazzi io vi ringrazio per aver seguito questa puntata di TopUpOfTheWeek, targataiphoneitalia.com Da Francesco Siciliani quindi è tutto, noi ci rivediamo con i prossimi video. A presto! Buon appetito!